... ... ... ... ... ... 2 euro matare! Lì, li hai! E le faci di coppia! Perchè a scatereo ti vede l'autopera! Perchè a scatereo ti prende parte se vede un cuore o ganchi! Ma non può stare suonare! Ganchi, tu hai lo caducato! Ma non è lo caducato! Non è caducato! Perchè lei sta matendo di vista! Autore di vista! Ti pare con timiro! Perchè i contatori tutti sbirri e cazzo! Nel cazzo... Ah, sopra! Avvi insammatena hai quello a proposito! Avvi insammatelo! Cazzo di picceli! Questo orale Mi è 150 Dove? Guarda, 60, 80 c'è Grazie a tutti.